oltre che per le novità sul piano dei contenuti e dei temi il romanzo cavalleresco si distingue dalle canzoni di gesta anche dal punto di vista della forma si tratta sempre di poesia narrativa di narrazioni in versi ma le lasse scandite da assonanze proprio delle chanson de geste sono sostituite da versi accoppiati in rima baciata i versi sono abitualmente otto sillabi anziché decasillabi come nella maggior parte delle chanson de geste cambia la maniera di presentare il testo che non è più cantato ma recitato o semplicemente letto ad alta voce fino ad arrivare alla lettura individuale silenziosa un'altra differenza importante è rappresentata dai destinatari non più il pubblico popolare variegato al suo interno che affollava le piazze i mercati pubblico che ascoltava le improvvisazioni dei giullari accompagnate dalla musica bensì il pubblico elitario e raffinato delle corti feudali che o ascoltava la semplice recitazione oppure leggeva individualmente i testi